Ho sbagliato, ecco qua, eccoti qua Pierpaolo. Grande Pierpa, come stai? Ciao Luca, tutto bene, tutto bene, grazie, tu come stai? Bene, bene, stiamo andando un po' sui focus delle squadre e quindi andiamo a Napoli, siamo in pieno ritmo. Pierpaolo, come stai? Questa settimana c'è campionato, fantacalcio, calcio mercato, insomma, non mancano, eh? Come ti senti tu per questo periodo? Sei pronto? Sei facendo allenamento? Ci fanno lavorare tantissimo, soprattutto in questo periodo, considerando che il Napoli sta chiudendo tutto adesso, tutto nelle ultime ore, no? Visto e considerato, bisogna fare il portiere, bisogna fare eventualmente, l'attaccante sicuramente, anzi due attaccanti, considerando che andrà via Fabiano e sarà sostituito con un attaccante, ci sono poi le atti... E' sicuro di Fabian Ruiz? Sì, abbastanza, sì, l'accordo è veramente, veramente prossimo, quindi se qualcuno fa l'asta come me, ad esempio, oggi, stasera... C'era io oggi? C'era oggi, ce l'ho tra due ore, tra due ore. Mamma mia ragazzi, io ce l'ho giovedì, e allora... Sarà complicato, sarà complicato. Perché non riesco a trovare? Eccoti qua, non riuscivo a trovare il Napoli, incredibile. Allora, quindi ci hai già detto del discorso legato a Fabian Ruiz, che ragazzi, è una grossa perdita, è una grossa perdita, è tristezza assoluta ragazzi, perché Ruiz era quel giocatore che ti dava garanzie di voto, qualche assist, qualche gol, è un centrocampista... Il mondo miglior centrocampista del campionato lo scorso anno, non dimentichiamolo, vero? Rendimento incostante, non è sempre stato tra i migliori, però per 4-5 mesi è stato il miglior centrocampista del campionato, poi anche i numeri l'hanno testimoniato con i grandissimi gol, perdita importantissima per il Napoli, che non lo sostituirà con un altro centrocampista. Perché cambia modulo? C'è questo del 4-2-3-1? Esatto, si dovrebbe passare al 4-2-3-1, anche se mi lascia una porta aperta per il 4-3-3, perché io ho seguito i ritiri del Napoli, chiaramente. Esatto. E Spalletti ha provato sempre 4-3-3, quindi sarebbe anche un pochino strano buttare via tutto il lavoro tattico fatto finora in questo mese e più ormai di lavoro nel precampionato, però poi chiaramente il Napoli, come spesso capita, è subordinato a quello che fanno le altre squadre, nel senso che lo subisce un po' il mercato. Se arriva la Big che si viene a prendere Fabian, soprattutto perché Fabian poi è un calciatore in scadenza di contratto tra un anno che andrebbe via, dunque, a fare 0-0 la prossima estate, ovviamente poi lo cede. Ecco perché si sta assondando il terreno per quanto riguarda qualche centrocampista, però non è da escludere, anzi, al momento è più probabile che Fabian non venga sostituito e che quindi si passerà al 4-2-3-1 con Raspadori, e poi il vice Raspadori che andrebbe ad essere Zielinski, che però sarà molto utilizzato anche più basso, questa è un'altra cosa importante. Dovrebbero giocare quindi l'Obotka e Anghissani, i due? Esatto, la coppia titolare è quella con Fabian Jolli che poi dovrebbe fare la spola tra il vertice basso e il trequartista. Ok, Raspadori, ci siamo? Raspadori ci siamo, ci sono anche le parole di Carnevale proprio recenti, il Napoli lo staccava, chiudendo, quindi Raspadori sarà il nuovo giocatore del Napoli e dovrebbe essere anche il titolare, anche perché se c'è una cosa che abbiamo visto nelle amichevoli, nelle tante amichevoli che ha disputato il Napoli in questo precampionato, è che Osimè nel 4-3-3 fa fatica, nel senso che ha bisogno di qualcuno attanto, qualcuno che possa lanciarlo, esatto. Una seconda punta, un trequartista, più di un centrocampista che gioca sulla trequartia, proprio di una seconda punta. Secondo me l'ideale è affiancare una seconda punta come Raspadori, perché no? No, alle volte potrà farlo anche Simeone, perché poi pare proprio che si sia sbloccata anche questa trattativa, quindi anche Simeone, considerando che poi Simeone non ha giocato mai con il Leberone in questo precampionato, era nell'area, il suo addio, l'unica squadra a questo punto era il Napoli, adesso che si è sbloccata la cessione di Petagna al Monza, altra cosa importante per il Fanzacarco. No, ne abbiamo parlato prima con Stefano Pontoni, che anche lui dava praticamente per fatta, anche se lui poi ha parlato di Cardi, che c'è anche questo discorso di Cardi. Da fine per farlo. Ma la domanda, ecco, ti faccio questa domanda, proprio legato a Petagna, ma Petagna ha accettato il Monza per quale motivo? Perché ha garanzia di titolarità, presumo, altrimenti sarebbe rimasta a Napoli, o no? Io non credo abbia garanzia di titolarità, nel senso che al momento ovviamente il titolare insieme a Caprari nel 3-5-2 di Stroppo, però è chiaro che se arriva ai Cardi poi ti giochi il posto. Io credo che dietro la scelta di Petagna ci siano due cose, il fatto che con Spalletti sarebbe stato soltanto un vice Usimen e neanche l'unico, perché poi con Raspadori, anzi lo vedremo, secondo me, con Simeone forse no, però se fosse rimasto Petagna e non fosse arrivato Simeone, o meglio, non arriverà Simeone, avremmo visto anche Raspadori falso 9, perché Petagna viene visto da Spalletti un po' come giocatore da secondo tempo, da gara in corso, da spostare un po' gli equilibri, fare a sportellate e là davanti fondamentalmente. Esatto, quindi ci sono sicuramente delle questioni di carattere tecnico e poi ci sono anche delle questioni personali, imprenditoriali, perché poi questo mi è stato detto anche da persone molto vicine a Petagna, Petagna è anche un imprenditore, ha aperto una serie di ristoranti, stare più vicino a Milano gli conviene di gran lunga e quindi anche questo secondo me ha inciso poi nella sua decisione. E come dice il nostro Lion, perché negozi a Milano e seguire di più le attività. Esatto, 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 mi ha anticipato. Ok, benissimo. Allora, altra domanda. Parlaci di Olivera, sarà titolare? Olivera? Ok, Mattias Olivera non credo che parta come titolare, le prime partite sarà sicuramente Mario Rui titolare, anche perché, ripeto, io sono stato nei due ritiri e Mattias Olivera è un po' dietro dal punto di vista tattico, oltre che da quello atletico. Ovviamente, mica è facile ambientarsi nel nostro campionato. Soprattutto per chi viene da una difesa a 5, o meglio, a 3, nel senso che nel Getafe giocava con un 3-5-2, che in realtà era più un 5-3-2, essendo una squadra di medio-bassa classibile, quindi puntava più a difendersi. Attaccare, Mattias Olivera dunque si sta ambientando un attimo in questa nuova linea 4, ha fatto qualche errorino nelle amichevoli, anzi qualche erroraccio, nelle amichevoli precampionato. Diciamo che il Napoli lo prende, si spende 12 milioni di euro, così come è stato il prezzo di Olivera, lo prende per fare il titolare. Però poi decide Spalletti. Spalletti al momento gli preferisce sicuramente Mario Rui. Che è un suo fedelissimo. Esatto, un suo fedelissimo, divenuto anche idolo dei tifosi. Paradossalmente era quello più criticato, adesso è divenuto l'idolo dei tifosi. I suoi sei comunque allo scorso anno li prendeva. Io me lo ricordo, sei, 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 qualche assist. Insomma, meglio di Isai alla Lazio che ha voluto Sarri. Ne parlavamo prima con Arianna. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma Isai è un buon difensore quando gioca a destra, quando gioca a sinistra fa molta partita. E' stato con mano, ecco. Eh, assolutamente. 8 come Gattuso. Comunque per concludere il discorso di Matteo Solivera sul fantacalcio, chiaramente prendetelo solo in coppia. Anche se so che a Luca non fanno impazzire le coppie. Andrò ricordi. Esatto. Prendetelo, prendeteli soltanto in coppia, perché secondo me si divideranno davvero i minuti tra campionato e i duecentesimi. Ok, ok. Quindi abbiamo parlato anche del discorso Olivera. Mentre ringraziamo Che Costoletta, 8 mesi con noi. Grazie mille Checco per la fiducia. E ci chiede invece, Zieliński, Panka, se si passa al 4-2-3-1 con Raspadori, trequartista centrale. Questo dovrebbe essere la formazione. Poi non so se da subito. Magari sarà un po'. Sì, sì, sì. Ci sarà un po' di apprendistato di Raspadori nel nuovo sistema in cui si troverà, chiaramente nella nuova squadra in cui si troverà. Ad oggi devo dire che... Io penso che, ecco, contro il Verona, parliamo di cose recenti, di cose vicine. Contro il Verona, la prima giornata di campionato, penso sarà ancora 4-3-3 con Anghissalobot che Zieliński a centrocampo. Più avanti si proverà, si lavorerà su 4-2-3-1 e poi ci potrebbe essere questo passaggio più o meno definitivo. Io non credo che Spalletti faccia 4-2-3-1 per tutto l'anno. Quindi credo che Zieliński farà tanti minuti, giocherà tante partite, ma non è un titolare inamovibile. Ecco, diciamo che questo ci porterà a spendere meno su Zieliński per Zieliński. Decisamente. Allora, perché non ha sicuramente il posto assicurato. Non so da te come sarà la situazione. A me sarà complicato, sarà complicato ovviamente in mezzo a tanti napoletani. Ti lascio immaginare cosa sarà con Baraschelia, ti dico solo questo. Mi hai anticipato. Ne avevamo già parlato nella diretta che avevamo fatto tempo fa. E allora adesso ti dico, c'è tanta hype di fronte a Karaschelia, poi l'istato centrocampista. Però ecco, io cerco sempre di dire ragazzi, calma, nel senso, io non metto in dubbio il giocatore, però il fantacalcio è un'altra cosa. Nel senso che il campionato italiano è un'altra cosa. Lui può essere devastante, certo, però non lo posso reputare un top di reparto al primo anno in Italia. Cioè io ho paura sempre di sparare così su un giocatore che fondamentalmente l'abbiamo visto nelle amichevoli nel Napoli. Poi, meno male che ha segnato, ci mancherebbe. Vabbè, certo, assolutamente. Ovviamente andiamoci con i piedi di piombo, però secondo me... Cioè, ti dico, noi come l'abbiamo valutato... E poi prosegui, prosegui, scusami se ti ho interrotto. No, dicevo semplicemente, io vengo anche io da uno studio di fantacalcio fatto recentemente, però l'ho messo come primo slot. Ultimo del primo slot, però come primo slot, perché il fatto che sia l'istato centrocampista secondo me aumenta l'appeal di gran lunga. Secondo me è un calciatore che può garantire tranquillamente assist e goal. Ovviamente non ti so dire quanti, però secondo me facendo anche il confronto con gli altri centrocampisti... Ecco, li vedi? Li vedi, li vedi, li vedi. Ok, aspetta, così li vedi meglio. Esatto. Ecco, noi abbiamo messo questi sette, diciamo, col discorso Chiesa, perché è ovvio che Chiesa c'è l'incognita del recupero dall'infortunio. Però ecco, Chiesa li mettono in trambi... Ma poi Chiesa rientra più tardi, quindi praticamente salta tutta la prima parte di stagione. Hai capito? Io per quello che l'ho valutato così basso Chiesa, perché sinceramente Chiesa al top, io lo metto dopo Savic. Assolutamente, assolutamente sì. Sei d'accordo su questo? Sì, 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 ma anzi, non ti dico mai di Milinkovic-Savic semplicemente perché viene da due stagioni da miglior centrocampista del campionato, però Chiesa dopo Milinkovic-Savic subito, assolutamente sì. Vedi, dov'è stato messo? Semi-top, però ecco, siamo lì, 30 crediti, 40 massimo per Pellegrini, siamo lì, ecco, fondamentalmente. Esatto, io l'ho messo, ti dico la verità, se sali un attimo ti faccio vedere esattamente io dove l'ho messo, l'ho messo tra Pasalice e Barella, tra Pasalice e Barella ho messo Paraschelle, perché uno che a differenza di Barella fa anche gol e ti dico, secondo me potrebbe anche fare il rigorista, altra cosa importantissima. Però, guarda Nicolino. No, 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 assolutamente, è un pupillo eh Barella per me, non voglio, non voglio assolutamente. Guardalo, capito, è ovvio che Caraschelle è sicuramente più offensivo, può portare potenzialmente più bonus, però ecco, quanto lo devo pagare? Cioè, il discorso è, non può essere una scommessa perché ormai c'è tanto hype attorno a lui, parliamo di un giocatore che potenzialmente può fare tanto, però, ecco, Barak è il dubbio del Verona, perché il Barak dello scorso anno è tanta roba, Pasalice farà bene come lo scorso anno, 13 gol, non lo sappiamo, però lo dobbiamo valutare per quello che ha fatto anche la scorsa stagione, Cialanoglu, ragazzi, sappiamo della discontinuità di Cialanoglu, però conosce il campionato, conosce Inzaghi, conosce i movimenti, ecco, caratteristica, Caraschelle è, non dico che è il livello di Zaccagni, però Zaccagni e Alverona, quanti gol faceva? Io sono d'accordo su mettere anche Zaccagni un pochino più alto, secondo me. Cioè, se ti porta 5 goli, 5 assist, Caraschelle, può andar bene come primo anno, io direi di sì, dipende da quanto lo paghi. Ovviamente, ovviamente, però secondo me, guarda, ti dico, segnerà di più, non si limiterà a 5 gol, secondo me segnerà di più, soprattutto perché, ripeto, può essere rigorista. Eh, vabbè, è ovvio che di fronte ai rigori, ragazzi, cambia tutto, eh. Secondo me se li dividono lui e Usimane, secondo me se li dividono lui e Usimane, perché Usimane parte come rigorista, però diciamo che secondo me Spalletti preferirebbe Caraschelle, considerando però che Usimane poi sarà in lizza per la classifica marcatori, comincia Usimane come rigorista, ma non escludo che poi a lungo andare possa tirarvi il cuore a Schelle. Ok, io, guarda, su questo lo cambio in diretto, lo metto comunque a 35. Vedi, c'è anche il discorso di Decateler, anche lui ha un hype clamoroso, anche lui ha il primo anno in Italia. Cioè, sono quei giocatori che se giocassero in un'altra squadra, è stile Kuloseski e Malinowski ha pagato il primo anno. Esatto. Quanto li hai pagati il primo anno? Un credito, però. Un credito, più uno, sì. Siccome Caraschelle al posto di Insigne, titolare, nella Georgia ha fatto bene, però a livello di esperienza ha giocato nel campionato russo e nel campionato giorgiano, il campionato italiano è diverso, Napoli è una piazza diversa, la domanda è, è un giocatore che se dovesse avere, ragioniamo per assurdo, cinque partite negative, quale sarà la reazione del pubblico, dell'ambiente e di lui stesso. Però ti dico, non ha il sostituto, non ha il rimpiazzo, nel senso che il Napoli... Perché Elmas comunque in quel ruolo no? Esatto, cioè, no, Elmas e Jolly non giocherà soltanto in quel ruolo, Elmas tante volte lo vedremo anche titolare a maggior ragione all'inizio quando sarà fatto 4-3-3. Quindi, secondo me, sulla carta giocherà tanto Caraschelle e quindi giocando tanto in una squadra che comunque produce tanto dal punto di vista offensivo, come il Napoli, può essere davvero un giocatore importante. E guarda, ti dico la verità, io l'ho messo come in basso nei primi slot, ma anche perché poi chiaramente so che qui sarà strapagato, io non lo prenderò, perché tanto già so come va a finire. Ma te lo pagate come un super top, è ottimo. Esatto, esatto. Eh, figurati, ci mancherebbe. A livello di Savic, forse anche di più. No, no, a livello di Milinkovic Savic non penso, ma sarà il terzo più pagato. Più dice l'anoglu sicuro, più dice l'anoglu te lo metto per iscritto adesso. Poi ci sentiamo domani mattina e ti faccio sapere. Assolutamente. È ovvio, Lion dice, sì, fate anche emozione, Caraschelle trasmette emozioni, sicuramente tanto hype. Però, se qual è il discorso, poi magari io sono bloccato perché le emozioni in certi casi me le tengo da parte, perché poi se poi l'hanno, beh chi l'hanno sbagliato, sono, si può dire, madonna, una dietro l'altra, ogni weekend, porca miseria, io ci ho speso un capitale e cosa mi aspettavo? Ti sei lasciato fregare dall'hype. Quindi, non metto in dubbio il giocatore, metto in dubbio quanto può essere pagato in un'asta di fantacalcio. Assolutamente. Io su questo sono assolutamente d'accordo e per me il discorso vale il doppio, considerando dove mi trovo. Figurati. E invece, sul discorso Elmas, come lo fa? Elmas avrà sicuramente spazio, avrà sicuramente spazio. Ripeto, all'inizio del 4-3-3, secondo me, giocherà tanto, perché appunto i primi tre centrocampisti del Napoli sono Zielinski, Angissà e lo Botka, lo Botka avrà Demme come vice, però le mezzali non hanno vice. Quindi, quando si fa una 4-3-3, secondo me, Elmas giocherà molto a centrocampo. E poi è la prima alternativa a Quaraschelia, quindi quando si passerà a 4-2-3, uno troverà spazio anche lì. Un giocatore su cui, chiaramente, non puntare tantissimo, non bisognerà puntare tantissimo, non sarà, secondo me, ecco, la sorpresa del campionato come avevo pensato potesse esserlo lo scorso anno. Cioè, può essere ma non lo è stato. Poteva essere ma non è stato. Esatto. Io credo farà una stagione in linea con la scorsa, che non è stata negativa, assolutamente, però è un calciatore da prendere come, appunto, secondo me, quarto slot, quinto slot. Eh, infatti noi l'abbiamo messo sul terzo, infatti l'ho scritto, Gioli per il fantacalcio andrà sempre a voto e può giocare sia a centrocampo che come esterno d'attacco. Confermo questa mia visione? Confermo, confermo lettera per lettera quello che hai detto e confermo il fatto che vada sempre a voto. Questo è importante, chiaramente, voi, da metterlo. Io spesso lo tenevo in panchina l'anno scorso, perché chiaramente è possibile. Eh, ma lì lo azzecchi se lo metti titolare, eh, c'è poco da fare. Cono lì becchi i bonus di Elmas. Eh, io vedi, l'ho messo su quest'area qua, Ipobega, Zaccaria, Freuler, Mandragora, Marcos Antonio, Zambanghissà, che hanno più attualità. Zambanghissà come titolarità non lo mettiamo in dubbio, però a livello di bonus, forse più da mantra, perché un M sicuramente è più appetibile in un mantra, l'anghissà, rispetto a un Elmas, che mi pare sia a W addirittura. Ma ti dico, secondo me è anche più appetibile anche in un fantacalcio classic, rispetto ad Elmas. Più titolarità. Io tra i giocatori del Napoli è quello che ho consigliato, perché secondo me non sarà pagato tanto, ma... Eh, io ho mai solo un per cento di budget, più o meno. Esatto, non sarà pagato. Sì, sì, assolutamente sì. Non sarà pagato tanto e secondo me giocherà più alto rispetto alla scorsa stagione, perché spesso poi, anche con 4-2-3-1, comincia nei due, cioè nel senso è sicuramente nei due davanti alla difesa, però il 4-2-3-1 del Napoli diventa spesso 4-1-4-1 e quindi poi va a affiancare... Ok, stile Giampaolo con la Samp. è un po' diversa la resa, eh. Vabbè, lasciamo perdere. Speriamo, speriamo. Eh, ragazzi, dai. Quindi anche se è consigliato per me. Perfetto, perfetto. Mi pare che non abbia più domande, se volete al volo ragazzi, perché dobbiamo lasciare andare via, che deve continuare il suo lavoro prima dell'asta ragazzi, quindi ti lasciamo andare. Mi pare che abbiamo un po' toccato... Ecco, l'ultima domanda, ultima, un'ultima per importanza, Kim, io l'ho valutato, non è una scommessa perché dovrebbe essere lui il titolare, anche perché l'alternativa è chi sarebbero? No, 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 anche perché quando il Napoli paga 20 milioni di euro un giocatore lo prende per fare il titolare, sappilo, cioè... Ok, quindi io ho messo un terzo slot, ci può stare? Sì, sono d'accordo, anche io l'ho messo terzo slot, anche io l'ho messo terzo slot. Secondo me Kim sarà... No, no, sono promosso, quindi sono preparato sul Napoli, Pierpa. Sì, sono quasi più preparato di me, e io però è un mese che ci sto dietro a vedere gli allenamenti. Credimi, io l'ho fatto non per 20, ma quasi, lasciamo perdere, però ecco, quindi come visione ci sta, ecco tutto questo, quindi... All'inizio non sarà lui il titolare, Kim, giocheranno con Jason Strachmani, anche lui avrà bisogno un attimo di crescere dal punto di vista tattico, quindi anche qui... Il Napoli è molto complicato, è tutto un work in progress, quindi... Anche questo va all'ottaggio che ti ho messo, ti piace? Lozano, ti dico io, ti dico Lozano. E l'anno? E l'anno come il primo anno? Secondo me sì, io lo inserisco tra i consigliati, più di Politano, anche perché Politano aveva avuto un po' di mal di pancia, tutto rientrato, però ad inizio... Anche se Politano lì è stato centrocampista, quindi... Esatto, questa è la grandissima differenza di Lozano e Politano, ovviamente. Però Lozano, ecco io... Poi c'è la staffetta, al sessantesimo, blam, cambio, classico. Esatto, però il titolare è Lozano, su questo non ci piove. Anche qui abbiamo messo Lozano, infatti, titolare. Bene, Pierpa, sei stato grandissimo, sapendo anche tutti gli impegni che hai, ci hai incastrato e ti ringrazio tantissimo per la disponibilità, ci sentiremo sicuramente durante l'anno, perché comunque ormai ti dico, sei entrato nella Hall of Fame tutto fantacalcio, perché ragazzi ovviamente si è preparato al fantacalcio, si è preparato sul Napoli, quindi alla grande. Io ho sempre a disposizione, per me è un piacere, lo sapete. E chiaramente, come tutti, mi raccomando Pierpa, il tifo lascialo un po' da parte. Questo è l'unico consiglio che ti posso dare, per il resto sei più che pronto, però ecco. È più semplice per me mettere da parte il tifo, quando fai il fantacalcio nella città che è attivata da tutti, diventa più facile. E poi sei giornalista, quindi. I prezzi sono esorbitanti. Sappiamo che da quel punto di vista bisogna essere assolutamente obiettivi. Ecco, l'ultimo consiglio, non prendere nessuno nel Napoli, penso che sia impossibile ragazzi. È impossibile. Ok, non fare il tifo, però un minimo, porca miseria. Sai, ne so di più degli altri che stanno con me a fare l'asta, quindi qualcosa... Allora mi pare che, ecco, mi raccomando, ma fai a sta chiamata? Sì, però? Sì, 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 sì. Mi raccomando, fammi sapere Pierpa. Mi aggiorno domani mattina, grazie mille ragazzi, grazie a tutti. Buon lavoro, buon asta, ciao ciao, ciao ciao. Grazie mille.